a che c'è in se basta non dovete pensare nient'altro anche se il primo è quindi se volete fare qualche domanda da lui visto insomma te dovevi tenere quello di più grosso insomma prima il 9 e poi il 19 com'è andata io non essendo molto alto sono riuscito a passare a contenerlo contenere per lui sono contento per evitare qualche duello di test questo qui anche se come dicevamo con sabatino ovviamente la squadra in linea generale è mancata di quella lucidità che magari in altre con altre circostanze sia distinta sì sì esatto è stato un periodo un po così dobbiamo riprendere il ritmo e la lucidità però con tempo con le partite giocando sono sicuro che ci sarà e quindi adesso bisogna pensare al giovedì bisogna pensare alla prossima a giocare tra punti e basta tanto oggi era importante muovere la classifica sì esatto cercare di salire un po' sì esatto cercare di salire